Utilizziamo stamattina la dashboard e la piattaforma MetaTrader per far vedere alcuni pattern di prezzo e di volatilità su cui ci eravamo già soffermati nell'ultimo webinar lungo di domenica sera. Quello che possiamo notare è qua, da un lato chi ha la dashboard e stamattina non si è svegliato troppo tardi, qui ha avuto un segnale di rialzo molto bello su DAX, 9,750, adesso siamo a 9,77 con un ulteriore rialzo. Vedete ci sono anche delle indicazioni che se uno vuole giocarsi, ma io non lo farei, un controtendenza, in questo caso ovviamente short, sarà bene che aspetti che i prezzi vadano a 10.020, 21, 22. Vedete anche che il sistema è dinamico, nel senso che poi aggiorna anche la segnalazione di eventuali operazioni di controtendenza spostandone il livello in modo da non essere travolti da una eventuale continuazione di trend. Qui ci sono 10 strumenti finanziari, quello che possiamo osservare sul DAX è non questo tipo di trend line, neanche questa, a mio parere è questa. Qui si utilizzano le stanghette, fatte proprio a gradini, del trading system che stiamo finendo di ultimare, media mobile lunga, media mobile a corte, in realtà non sono media mobile ma sono a parte di prezzo. Quello che si può notare è che vedete che a un certo punto le due confluenze di livelli si sono aggiornate fra di loro, c'era molta volatilità sui prezzi ma non volatilità sui trading system. Quando accade una roba di questo genere devi andare a cercarti un altro indicatore di volatilità, in questo caso era questa sorta di VIX sintetico e a quel punto qua c'era un pattern molto interessante. Qui è partito proprio il mercato, adesso 1, 2, 3 potremmo definire questa situazione quasi come fosse una sorta di testa e spalle. E a mio parere, anche se comincio ad osservare delle chiusure o quantomeno degli avvicinamenti di trading stop, di chiusure di posizione dell'alzista, ritengo che lo spazio per salire sia ancora elevato. Questo perché è elevato relativamente al fatto che, a mio modo di pensare, questo è un rimbalzo, ma molto interessante è il 9.700. Sul 9.700 c'erano anche i segnali del nostro sistema che pubblichiamo sul sito. Vedete? Compra 9.685. C'è tutto un ritorno di appetito per il rischio, i soldi di Trump, della Germania, il fatto che la Cina possa declassare il coronavirus a rischio medio e a rischio alto, sospinge queste ricoperture che, a mio modo di vedere, possono essere ancora robuste e, una volta raggiunta, bisogna passare il 10.000, una volta raggiunta la 10.300, c'è un ostacolo 530 e un ostacolo a 700 viti. Comunque c'è un recupero delle borse, in questo momento non va contrastato, perché potrebbe ancora continuare dal momento che questo recupero ha rotto dei livelli. E quindi, qui c'era un canale, il recupero se ne è andato via, ciao. Altrettanto evidente questo recupero, con la bella riaccumulazione dell'indicatore di sentiment, che poi in area 9.200 ha passato la linea dello 0. 9.200, 7.900 circa, sono 1.300 punti, da 9.200 più 1.300 fa 10.500, siamo a 9.980, ormai 10.000 è in vista, per cui non so, oggi mi sembrerebbe un po' sparata la cosa, ma un 10.300 ci può star tutto, però, come vedete, bisogna alle divergenze dare tempo di manifestarsi. E' per questo che ci vogliono indicatori reattivi, ma al tempo stesso non troppo veloci, perché quando l'indicatore è troppo veloce, poi ti crea dei problemi. Ed è questa la bontà di lavorare col sentiment, così come lavorare con queste macchine. Andiamo a posizionare i livelli anche di supporto e di resistenza sulla dashboard. Utilizzeremo, in questo caso, un time frame più corto, per poterli vedere meglio. Ecco, qui c'è il prezzo di equilibrio, 9.500, qui è partito l'ultima gamba di rialzo, 9.768. E questa era molto bella da prendere proprio stamattina qua, entro quest'ora. Target 1 già raggiunto, trailing stop è già portato a 9.857, 10.000 nel frattempo passato allegrissimamente. Target 2 già passato, perché era 9.985, target 3 10.129. Il mercato è robustissimo, è inutile negarlo, assolutamente da non contrastare per il momento. Perché non sarebbe proprio il caso. Secondo me, nonostante che poi vedete è stato passato il 10.000, siamo a 9.960, quindi un mercato estremamente reattivo, molto reattivo. Anche perché sono le 9 e quindi sta aprendo adesso l'indice. Quindi queste sono le prese di profitto, questi sono i gain incassati. Conviene anche seguirlo con la nostra buona e doverosa analisi grafica. Continuo sempre di più a vedere gente che scrive sui social, non hanno ovviamente un cazzo da fare tutto il giorno, che l'analisi grafica non funziona. Chissà come mai io quando traccio linee dei parallelismi li trovo sempre. Orientiamoci anche con una mediana fatta così. Se non sapete usare l'analisi tecnica, cambiate mestiere. Buona giornata a tutti.